La Corte Costituzionale Spagnola ha deciso di sospendere l'investitura di Carles Puigdemona, presidente della Catalogna, a meno che non si presenti di persona al Parlamento e previa autorizzazione del giudice del Tribuna Supremo. La sessione di investitura prevista marted 30 gennaio con Puigdemon, in accento esilio in Belgio, unico candidato, escluso il voto telematico o per delega la Corte Costituzionale Spagnola ha così impedito che Puigdemon possa essere rieletto alla guida della Generalitat per via telematica o per delega un altro parlamentare, come invece vorrebbero i deputati indipendentisti catalani. Puigdemon ricercato dalla giustizia spagnola che lo accuse di sedizione per aver dichiarato L'indipendenza della Catalogna lo scorso ottobre e se rientrasse in Spagna verrebbe arrestato. Intanto, spiegano i media spagnoli, la Corte si data altro tempo per decidere se accettare o meno il ricorso presentato dal governo spagnolo che mira ad annullare la candidatura di Puigdemon alla presidenza regionale. La Corte intende ascoltare tutte le parti in causa compreso lo stesso leader indipendentista.